ciao a tutti e bentornati nel mio canale se non siete ancora iscritti iscrivetevi e cliccate sulla campanella così se c'è qualche nuovo video non ve lo perdete come avete potuto intuire dal titolo questo video non è proprio un video bello perché io allora gli ultimi due video era sulla violenza femminile cioè quando in pratica un uomo fa del male alla donna la donna si deve saper difendere adesso faccio un video molto simile però non è proprio così perché vi voglio parlare di una forma del di bullismo che non è molto conosciuta cioè nel senso che noi siamo abituati a vedere bullismo cioè a pensare al bullismo come un qualcosa che che praticamente che siano i ragazzi ma invece non è sempre così perché può esistere una forma di bullismo come in questo titolo vi spiego che praticamente possono essere i professori che si comportano da bulli o perlomeno non so come chiamarlo se bullismo o altro non so come il termine tecnico comunque sia ve ne voglio parlare allora io sono uscita da scuola sette anni fa anzi veramente sei e mezzo non proprio sette anni diciamo così però sinceramente sinceramente ho voluto fare questo video anche a distanza di tempo perché un video più che altro per aiutare altre persone che stanno nella mia stessa situazione quando io andavo a scuola allora dovete sapere che io non ho subito soltanto vessazioni dai compagni come ve ne avevo già parlato in qualche video precedente ma anche di persone adulte ovviamente io non mi voglio dilungare più di tanto perché perché voglio che sia breve questo video dunque per fare un esempio a parte vabbè i vari insulti che mi facevano tu nella vita non farai nulla e cose varie però mi ricordo di un episodio che proprio avevo cancellato ma non so perché me lo sono ricordato quindi ho detto facci il video così almeno condivido anche questo allora praticamente intanto faccio una premessa se siete uomini meglio se saltate questa parte bene detto questo praticamente è successo che mi era tornato il ciclo non è che stavo proprio in splendida forma però sono andata a scuola lo stesso stavo un po' leggero mal di pancia però normale se siete donne capite cosa si prova fatto sta che dopo un po' questo dolore si faceva sempre più forte e più intenso e io non ce la facevo più e quindi a un certo punto praticamente ho chiesto non so di poter avvisare casa quindi sono uscita fuori dall'aula perché stavo proprio male non sapevo che fare e niente praticamente parole povere per due ore dico due ore io facevo avanti e dietro avanti e dietro avanti e dietro per il corrido perché proprio mi faceva male e le persone adulte se ne sono letteralmente fregate cioè nessuno ha fatto niente per me ci stava pure l'infermeria quindi volendo non mi poteva accompagna ma niente a un certo punto l'unico professore che mi ha rivolto parola perché io stavo praticamente a camminare con piegate in due mi aveva detto che cosa avessi fatto io ho detto mi vergognavo a dire che avevo il ciclo perché ero un uomo e quindi ho detto un mal di pancia proprio terribile però lui se n'è andato cioè niente normale tutto normale dopo due ore arriva una professoressa che mi vede in quelle condizioni finalmente mi porta in infermeria lei ci sta a un letto e com'è stare praticamente in ospedale mi sono allungata e lei ha pensato a visare casa visato casa la mia mamma subito si è precipitata perché proprio dei dolori lancinanti cioè non voglio dire che quelli del parto siano uguali perché io non non avendo mai partorito non posso saperlo però erano fortissimi proprio insopportabili cioè mi aveva fatto così arriva la mia mamma ve ne dovevo andare quindi ci serviva il registro a un certo punto il registro non si ritrovava quindi alla fine altri dieci minuti sono rimasta a scuola praticamente proprio piegata in due per il dolore perché il registro non si ritrovava in quel momento è venuto l'impulso di mandare tutti a quel paese perché dici ma come non è possibile che una ragazza che c'è il ciclo così doloroso deve stare due ore a fare avanti e dietro avanti e dietro perché perché nessuno si prende diciamo la briga di avvisare i genitori che la vengono a prendere cioè dopo due ore ho dovuto aspettare due ore intanto quelle due ore io ho proprio male poi la storia del registro che non si ritrovava volendo poteva pure succedere che se i miei genitori venivano avvisati in tempo cioè due ore prima venivano può darsi pure che il registro lo stesso non si ritrovava però invece che tornare a casa tre ore dopo tornava a casa magari mezz'ora dopo e invece non ho dovuto aspettare oltretutto nella mia vecchia scuola non so voi era vietato usare il telefonino cellulare quindi una volta che uno entrava a scuola doveva spegnerlo e metterlo nello zaino questa cosa qua io sono sempre stata contraria però adesso non voglio dire non voglio parlare di questo magari più in là farò un video in cui proprio farò un video se tipo pro e contro se uno su questa legge che hanno messo nelle scuole perlomeno nella mia vecchia scuola c'era questa legge quindi anche se io volevo io personalmente fare uno scuola a casa guarda sto male non potevo neanche farlo e quindi in un certo senso mi sono sentita fregata e così poi invece un'altra volta che stavo male perché mi girava la testa è successo che praticamente il laboratorio perché io ho fatto moda era sempre affollato e c'erano i posti diciamo pieni perché? perché un'altra classe era stata messa nella nostra diciamo così e purtroppo le sedie non erano abbastanza per tutti e niente io mi sono sentita male mi ha cominciato a girare forte la testa perché all'epoca avevo il ferro molto basso quindi stavo male sono andata dalla prima professoressa che ho incontrato lei non stava anche se era la mia professoressa cioè mi insegnava a me diciamo così era proprio insegnante di classe in quel momento non aveva l'incarico cioè non avevo lezione con lei però giustamente le ho chiesto aiuto ho detto sto male qual è stata la risposta di questa professoressa io adesso adesso non sto con te quindi vai a chiedere alla tua insegnante io con le mani e con i piedi perché proprio non mi reggevo in piedi sono andata lì quella lì non mi ha creduto morale della favola gli altri che godevano di ottima salute sono tutti staseduti io che invece mi giravo la testa sono tutta stai in piedi tutta l'ora e non è possibile una cosa del genere sono tornata a casa i miei genitori mi hanno fatto pure brutto ma in senso buono come l'ho raccontata questa storia ho detto ma scusa ma tu non quando è così siediti per terra se uno ti richiama se uno ti ti richiama perché dice ti sei seduta per terra e qua e là dici voi non mi fate sedere perché non mi non mi concedete il posto io mi siedo per terra perché sto male però a quei tempi ovviamente non ci pensavo e poi non sapevo tanto non mi sapevo proprio far valere e poi vabbè altre cose che comunque non sto qui a raccontarvi perché questi sono gli esempi più eclatanti perché ne potrei fare migliaia ma non sempre esempi tipo che io stavo male perché non è che stavo sempre male anche altri esempi di cose che non andavano comunque ma perché ho fatto questo video per dire a voi alunni se per caso succede che vi trovate in queste situazioni con i vostri professori fatevi valere se loro vi mettono la nota non ve ne deve importare fatevi sospendere spellere non ve ne deve importare però l'importante è avere la dignità non è che deve succedere come è successo a me che io mi facevo mettere i piedi in testa da chiunque perché per paura ti riporta una nota o altro anzi se vi mettono la nota voi potete anche far ricorso perché voi avete ragione cioè mi spiego mi spiego se succede se per esempio io io mi beccavo la nota perché casomai mi sedevo per terra chi che aveva ragione io perché io sto male scusa non se non posso sedere tutti se ne stanno fregando quindi mi sedevo per terra perché sto male se poi invece casomai io ipotesi mettiamo mi mettevo a scrivere sui muri allora in questo caso mi beccavo la nota e andava bene dipende pure però comunque voi alunni vi dovete far valere invece questo è un altro messaggio che lancio ai professori cioè veramente io mi domando e dico ma se uno veramente non è in grado di fare l'insegnante perché cavolo lo fa cioè mi spiego mi spiego quando una persona un alunno viene affidato a una scuola diciamo che in teoria si dovrebbe sentire protetto invece io non mi sentivo protetta anzi dopo questi due episodi io ho rischiato addirittura di perdere l'anno perché? perché praticamente 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 io ogni minimo malessere cioè per intenderci un minimo dolore che provavo non andavo più a scuola cioè alla fine qualunque cosa un raffreddore primaverile niente scuola un'altra cosa niente scuola perché la mia paura più grossa era se peggioro qua che sto a scuola tutti se ne fregano di me quindi alla fine è meglio che mi sto a casa almeno c'ho la mia famiglia che mi aiuta che se è il caso chiama un medico chiama qualcuno perché non è possibile una cosa del genere infatti quando sono uscita da là per me è stata una grossa liberazione dico la verità perché fin quando sono i ragazzi che si comportano male d'accordo però i professori proprio no perché sono persone adulte quindi dovrebbero dare l'esempio secondo me e poi sinceramente io tempo fa ho letto un articolo dove ci stava scritto che insultare gli insegnanti è oltraggio al pubblico ufficiale adesso io voglio sapere una cosa ma una persona è intelligente è tutto ma voglio sapere una cosa ma se una persona un professore insulta a me che sono alunna cioè io parlo di me al passato cioè io mi dovrei stare zitta cioè scusatemi io mi dovrei stare zitta cioè quello mi può dire mi può dire tu nella vita non farai niente non vali un cavolo io mi devo stare zitta e no non mi sto zitta e quindi anche se è passato tanto tempo leggendo questo articolo cioè sinceramente ogni tanto qualcuno lo condivide non so non so perché ma ogni tanto mi compare sulla pagina mi fa incavolare perché cioè penso a quello che hanno fatto a me e quello che possono fare anche ad altre persone tutto questo diciamo che mi è tornato in mente perché perché praticamente dovete sapere che quando io andavo a scuola io attualmente cerco lavoro dovete sapere quando andavo a scuola quando ci siamo diplomati i professori hanno inserito parecchie persone nelle aziende e invece a me no parlando con mio padre lui mi ha spiegato che lui lui quando io dovevo fare l'iscrizione al primo anno praticamente lui aveva messo tipo avete presente quando uno compila il modulo dove ci si è scritto il genitore acconsente che il proprio figlio possa apparire lui sbagliando ha messo un no però una cosa c'è una cosa che non quadra magari lui giustamente perché ero minorenne però quel no una volta che si diventa maggiorenni non ha più valore quando sono uscita da lì io ero maggiorenne però sono anche felice perché se un giorno dovessi fare qualcosa qualunque cosa non devo ringraziare nessuno non è che io sono una ragazza che se la tira o altro però semplicemente semplicemente è stato un ambiente proprio per me fallimentare cioè quello che mi hanno fatto passare che io non mi voglio dilungare più di tanto perché già registro da 16 minuti avevo in programma di registrare meno di 10 minuti quindi figuriamoci un po' come mi sono dilungata e comunque c'è da considerare l'ultimo punto e poi chiudo che quello più importante mi ho fatto un video in cui sono diciamo i professori bulli verso i ragazzi però per non essere di parte ma non è che io sono di parte praticamente vorrei fare un video in cui è il contrario più in là infatti ho intenzione di fare un video in cui i professori vengono presi a di mira dagli alunni per oggi è tutto e ci rivediamo al prossimo video